Lavorare insieme per fare cultura in modo democratico ma soprattutto apartitico, in una sola parola, FEDAC. È la prima federazione delle associazioni per la cultura nata a Bari da un'idea di Maurizio Ferrandino, già presidente di Agoram Mediterranea. Venti le associazioni che hanno aderito al progetto, tutte attive nel campo delle arti figurative, della danza, della musica, del teatro. Facendo rete la federazione intende fare cultura in città senza sovrapposizione ed eventi fotocopia. La FEDAC inoltre intende proporsi come interlocutore di riferimento delle istituzioni, comuni, province e regione per indirizzare le politiche culturali senza prescindere dall'autonomia delle associazioni stesse. Naturalmente l'invito, come ha sottolineato il presidente della FEDAC Ferrandino, è esteso a tutte le associazioni culturali pugliesi. Anche in campo culturale l'Unione fa la forza. Fulcro del progetto sarà il portale web della federazione www.fedac.it che funzionerà da cassa di risonanza per contribuire al successo delle iniziative organizzate dalle singole associazioni. Ricco il calendario degli eventi che si potrà visionare sul sito. Il primo lo ha annunciato il presidente della FEDAC in conferenza stampa nella sala giunta del Comune. Partiremo da un ragionamento approfondito su quelle che sono le progettualità culturali a Bari. Non ultimo, quello che dicevo prima, l'ipotesi di candidare Bari a capitale della cultura per il 2019.